E' bello raccontare questa storia, la storia di un'azienda a sud in Molise, la molisana, che è nata 100 anni fa, ma è stata rilevata 5 anni fa, in cui una famiglia si è messa in discussione e ha ricominciato un percorso molto complesso in un settore non conosciuto, quella grande distribuzione, quindi nella vendita di prodotti alla grande distribuzione, la pasta. Bello dire oggi a posteriori l'azienda fatturava 16 milioni, dopo 5 anni di grandi sacrifici è arrivata a fatturarne oltre 100, con un mercato che è passato allo 0,3 al 5 punti di mercato hyper più super, con tante difficoltà, facendo tanti investimenti tecnologici in un'area dell'Italia difficile solo perché è un po' emarginata. Abbiamo operato con degli investimenti importanti in tecnologia e in robotica per abbassare i costi, quindi per essere più competitivi, abbiamo operato molto sulla qualità del prodotto e altrettanto sulla qualità dell'immagine del prodotto. Il mix nell'insieme è stato vincente, l'azienda oggi dà degli ottimi risultati, può nel prossimo futuro pensare di crescere ancora.